All'interno della sagrestia si trova questo dipinto realizzato da Paolo Maradi, vissuto a cavallo tra 1700 e 1800, che rappresenta San Pietro liberato dal carcere da un angelo del Signore. Possiamo osservare il volto stupito di Pietro, invece pagato e rassicurante è l'angelo che indica la via d'uscita con le guardie dormienti. Grazie a tutti.